Io farei una carnellata perché abbiamo avuto molti produttori e abbiamo chiesto loro di venire e alcuni non ci fanno. Abbiamo organizzato questa conferenza stampa insomma un po' insordina per cui non ce l'avamo fatta. Però alcuni, alla certa parte ci sono, ci sono delle risciate e io vorrei fare una rapidissima carnellata per sapere poi cosa avremo la possibilità di degustare perché è giusto anche apprezzarlo un pochino. Allora, abbiamo qui Oniglio Verdelebrino. Oniglio Verdelebrino è Presidente del Consorzio Verdelebrino ed è un coniglio che sarà, forse protagonizza più che mai quest'anno perché ben tre chef cuciveranno questo coniglio, chef stellati, chef locali e tra questi Laura Belli che giardini di Everata e insieme a Emanuele. E loro faranno che cosa? Spiegaci un po'. Noi portiamo due piatti che raccontano tutto il territorio. Uno è uno strato di bagnaglia che tutti ci rappresenta, con la bottata di un vedello che ha uscite due tesi più benissimi anche se non proprio i Viterbesi. E l'altro è un timballo di patate di un lebrino viterbesi con della marzolina che ho presito sul food. Bene. Accanto a lei c'è un altro chef, un'altra cuoca. Salve, io sono Gianna Del Pastore, una delle cuoche che è tre visitati e noi butteremo il coniglio del vino alla faccia d'ora. Benissimo, andiamo alle bifide e qui ci sono diversi vinifici che saranno presenti dalla provincia di Viterbo e qui abbiamo i Tineris. Questo per noi è il secondo salone del gusto, abbiamo visto due anni fa l'importanza dell'evento, la grandezza anche dei molti produttori, il clima familiare che qui si instaura. Andiamo con 10 qualità di Pira e le nostre sono 2 euro. E poi le assaggeremo? Benissimo. Ci spostiamo di qua, abbiamo una rappresentazione di formaggi, di formaggi Pira, purtroppo il produttore non ce l'ha fatta esserci, però insomma vedete la varietà anche dei prodotti che loro presentano, fatti in diversi formaggi, tutti formaggi a latte crudo, questa è una cosa importante perché conservano determinate caratteristiche e proprietà che non è facile o non è comune trovare. Ci spostiamo poi alla patata e ai prodotti e ai legumi vari con la perla. La perla della tuscia, sì, io rappresento la terza generazione. Sì, sì, ma la data voce che non ti sentono. Due anni fa sono stata al salone del gusto di Torino con l'azienda di mio padre, quest'anno è passato tutta mano a mio figlio che non è potuto venire oggi perché a Roma mi sta studiando e andiamo al salone del gusto con la terza generazione perché ormai io mi sono dedicata degli anni fa a produzione di questi numeri particolari perché il Grotto di Castro è un'area avvocata di papà, è stato un po' un ternalotto, abbiamo potuto fare questa prova con mio padre, è andato bene e adesso si è rinnovata con mio figlio che hanno compiato tutto e stanno portando avanti. Allora, da notare queste patate viola, sì, di cui la zona è particolarmente evocata, le patate viola che stanno adesso impazzando, le ritroviamo un po' da per tutte le trasmissioni. Adesso vediamo quando abbiamo iniziato voi. Buongiorno. Noi faremo colori salone del gusto, la sossianella, è un gigo sul sud, ormai da tanti anni sarà la seconda Though nel sud, il picked on sale della sottonorte del gusto, questo sa come a origini antichissime quindi noi lo rifacciamo e lo facciamo per conto alla nostra antica traduzione e speriamo di rivedervi in piazza per il gusto, grazie. Allora due parole sul presidio, il presidio è un prodotto che scoperta decide in base alle esigenze che arrivano dal territorio di tutelare come succede per il banalizzo, per il pubblico e per delle specie protette, quindi in questo caso sono prodotti nocassinoronici che si danno a proteggere e che hanno dato la loro attenzione. Noi abbiamo due produttori nella provincia di Viterbo che curano la susianella di Viterbo, questo appunto c'è l'azienda Stefanoni, oggi purtroppo Marco Stefanoni non ha potuto venire, però qui abbiamo chiesto il prodotto e quello comunque avremo la possibilità di degustarlo. Passiamo ancora all'olio, rimaniamo sul salato, abbiamo con noi. Buongiorno, io sono Vandalisa della società agricola Il Molino e diciamo noi presenteremo al suo nome del gusto l'olio ex allergine di oliva biologico canino che è la varietà odottona del Viterbese, abbiamo gli oli aromatizzati, la confettura di visciole perché è quell'altra ciliegia simpatica, tipica di questa zona, noi cerchiamo di riproporla, il patè di olive e la pasta di grano duro senatore Cappelli che abbiamo reintrodotto in azienda agricola, tutto biologico, grazie. Buonissimo, e dal salato passiamo quindi al palco dolce, voglio finire, eccolo qua. Me lo ho perso, lascio trovare la signora di Tepelina, vai. Buongiorno, sono Capone di Papio, la pasticcia è la cittolateria Santoni, la pasticcia è la cittolateria Santoni, porteremo su al Salone del Buzzo a far degustare le nostre nocciole dinghe, dei molti cilini, di cui andiamo molto pieni, portiamo su questo nocciolato e cercheremo di dare il meglio di loro. Bene, bene. E concludiamo con l'azienda Cassantini, qui abbiamo dentro l'ordine, possiamo togliere anche, se no le pomme un bel gruva, grazie. E appunto la pasticceria Cassantini, anche loro saranno presenti a questa manifestazione e quindi porteranno un po' delle loro bontà, delle loro predivatezza al Salone del Buzzo. Sicuramente lo faccio a due portale, una con pesce, quindi è tutto molto delicato.